Nuova protesta a Berut in Libano contro il governo 3.000 ai partecipanti del movimento Voi Puzzate, nato dalla crisi dei rifiuti e diventato una forma di contestazione della corruzione politica. L'esecutivo intanto ha fatto sapere di aver adottato un piano quadriennale che prevede innanzitutto la riapertura della discarica di Naame a sud della capitale. Lunedì entreremo in una nuova fase, paralizzeremo il paese, hanno affermato i manifestanti. Vogliamo dire ai rifiuti che siedono nel governo che resteremo nelle strade fino a quando non se ne andranno. Sia loro che la spazzatura devono sparire, non ci stancheremo, manifestiamo da otto mesi e continueremo. Dalla chiusura di Naame a Lulio un fiume di spazzatura invade il paese. I manifestanti sono contrari alla discarica perché ritengono non risolva il problema in modo rispettoso nei confronti dell'ambiente.